PEGI 18 Il mostro non muore mai, non importa quante volte lo uccidi. Cambia pelle e assume altre forme. Dove andiamo, Kessler? A Wolfsburg. Cosa c'è a Wolfsburg? Morte, agente Blazkowicz. Morte. Blazkowicz, se non è proprio necessario non uccidere nessuno. Che hai detto? Uccidi quanti più nazisti possibile? Oh, capitanne. Guarda, piovono nazisti.